Allora, una domanda a Sigfrido. In Italia c'è un'elezione ogni 2-3 settimane circa. Come si fa a fare giornalismo di inchiesta dove bisogna raccogliere materiale, studiare, lavorare, quando poi si incappa nella parcondicio? Intanto bisogna conoscere bene le regole della parcondicio, perché spesso vengono applicate quelle dell'opportunità, non della parcondicio. Noi abbiamo fatto varie battaglie con le porte, abbiamo scaricato centinaia di puntate sotto la parcondicio, non siamo mai stati sanzionati, però ho dovuto spesso faticare perché ci si fermava prima dell'ultima frase della parcondicio, dove si dice che non bisogna avvantaggiare o svantaggiare i competitor in campo, virgola, sui temi della campagna elettorale. Ecco, quel virgola sui temi della campagna elettorale ce lo scordano tutti. Noi siamo riusciti ad andare in onda anche parlando di 49 milioni della Lega, famosi all'epoca, in un giorno di pausa, di silenzio elettorale, abbiamo avuto il CDA contro, abbiamo avuto l'agico, che però poi alla fine è stata costretta a darci ragione, perché la virgola sui temi della campagna elettorale. I 49 milioni della Lega non è uno tema di campagna elettorale. Quando c'è il pubblico significa che si fa qualcosa di corretto. No, ma in teoria quando sei sotto elezioni dovresti aumentare la quantità di informazione, perché io vorrei conoscere chi devi eleggere, non sottrarlo. Ecco, allora, cercheremo. Invece qui si va verso la sottrazione, insomma anche la legge costa che vuole impedire di dare i nomi degli arrestati, no? Sì. E di versi sottrarre informazioni in nome della presunzione di innocenza, quando invece la presunzione di innocenza c'è se c'è un'informazione più completa possibile. Assolutamente. Marco, senti cosa ha detto il vicepremier Matteo Salvini a proposito dell'Abruzzo. Senti. Ecco, quindi ha ammesso che in Sardegna ci siano stati dei litigi e che si è perso. Come arriva il centrodestra a questa elezione in Abruzzo e invece come arriva il centrosinistra che è galvanizzato un po' dalle elezioni in Sardegna? Se scommette solo un caffè, diciamo che rischia poco. Sì, è poco, sì. Ma io credo che in Abruzzo il centrodestra sia comunque favorito. Intanto perché hanno un vantaggio superiore, perché non c'è il voto disgiunto, quindi le operazioni di sabotaggio, tipo quella della Lega in Sardegna, non possono essere fatte se non penalizzando il proprio partito, quindi non conviene. E poi perché la candidatura di D'Amico, che pure mi pare una persona seria, che ha fatto bene come rettore e anche come manager pubblico, non è proprio dirompente come novità altrettanto rispetto all'Alessandra della Todde. E quindi insomma può succedere di tutto perché c'è un equilibrio e questo credo che dovrebbe incoraggiare già il PD, 5 Stelle e i loro alleati. Qui c'è anche calenda, perché fino a due mesi fa erano 10 punti di distacco, cioè non c'era nemmeno partita, era cappotto, era data per Persa come regione, anche la Sardegna. E quindi il fatto di essere riusciti a arrivare comunque, anche se perdono di poco, è già un segnale incoraggiante. Allora, sentiamo cosa ha detto Pierluigi Bersani sul risveglio del centro-sinistra. Sentiamo. Allora, Sigfried, ti chiedo una cosa. Tutte le volte che c'è un'elezione locale, chi perde da valenza locale, chi vince da valenza nazionale? Sempre così, poi si vede la percentuale di distacco, l'incremento rispetto alle vecchie elezioni, la proiezione rispetto al dato nazionale. Insomma, mettere una sconfitta da un punto di vista di un partito, di una classe politica, è sempre complicato e quindi diciamo si dà una lettura a proprio vantaggio a prescindere. Quello che si nota è che c'è una grandissima confusione, che vedi delle alleanze che nel Paese in realtà non ci sono e vedremo il vero test saranno le europee, perché lì bisognerà capire che cosa sta accadendo realmente nel Paese, se chi ha governato fino adesso ha meritato voti sufficienti per una riconferma nelle singole parti, io credo che quello sarà il vero test. Insomma, io credo che quello sarà un momento molto difficile per l'informazione. Perché è difficile per l'informazione? Sarà un momento molto difficile per l'informazione perché ci sarà un'informazione da una parte drogata e dall'altra si cercherà invece di chi fa informazione vera di mettere un tappo, un bavaglio. L'esperienza ci dice questo.